Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi tutorial molto molto utile per voi, secondo me, infatti vado a insegnarvi una tecnica per calciare i rigori pressoché infallibile. Di fatti vi sarà capitato sicuramente di subirla e tirare giù tutti i santi del calendario successivi e precedenti alla data nella quale l'avete subita, soprattutto se in Weekend League, vi sarete chiesti come è possibile che non l'ho parata anche se me l'ho buttato. Mi spiegherò infatti anche il segreto per pararlo questo rigore, visto che c'è un unico caso in cui potete evitarlo, a meno che il vostro avversario non abbia le pigne tuonanti o il tamburo di Omer che fa mdongdong nella testa e quindi non capisce che lo state facendo e continuerà a subirlo. Quindi essendo una tecnica che ha efficacia limitata, io vi consiglio di usarlo come effetto sorpresa per battere magari i rigori in partita e non nel penalty shot out perché altrimenti andate sotto e sopra. Andiamo su Xbox a vedere come si fa in Arena e poi vi porto degli esempi in game che ho registrato durante una partita. Quindi rapido cambio di scena e ci ritroviamo appunto in Arena dove sapete se mi trovo qua e schiaccio magari le freccette direzionali mi dà la punizione, se invece butto la palla in area di rigore e schiaccio la freccetta in area di rigore mi dà invece appunto il rigore. E andiamo a vedere questa tecnica, si tratta di un pallonetto, quindi dovrete farlo schiacciando inizialmente il tasto L1 più il tasto del tiro e dovete mirare esattamente all'angolo nel 7 andando a sfiorare il tasto del tiro, esattamente così. Vedete che il portiere si butta, fa un volo, sbatte fascia e palo e la palla si insacca nonostante abbia intuito. E voi mi direte, sì Riberovski ma si vede la testa, come è possibile? Se si vede la testa me lo parano. Avete visto che il portiere si è buttato lì ma non l'ha parato. È vero che la testa se voi angolate prima si muove ma è l'unico modo per avere la precisione perché altrimenti non avete il tempo per mirare esattamente all'angolino. E soprattutto dovete fare caso come bisogna sfiorare il tasto del tiro. Qua l'ho mirato troppo, l'ho mirato troppo, l'ho mirato troppo in alto. Mi vi chiederete, allora come evitare quello che appare un glitch vero e proprio perché avete visto il portiere come si è, come si è buggato praticamente. Ma un modo c'è per pararlo ed è uno e unico però. Perché avete visto, anche se vi tuffate, il portiere fa un'animazione strana, sembra che viene cecchinato dai palazzi o dagli alberi, dai cespugli di Fortnite e non la para. Voi se andate a leggere questo movimento, quindi vedete che il giocatore la sta mirando lì e dite cavolo questo potrebbe farmi il rigore buggato, l'unica mossa che potete fare è quella di spostare il portiere nel lato in cui vedete che la testa si muove e poi tuffarvi. Quindi praticamente muoverlo già verso il lato estremo, lasciando l'altro lato, tanto se gli avete letto sta meccanica fregatevene, e poi vi buttate anche. Quello è l'unico modo per evitare questa tecnica. E va sicuro che funziona, come avete visto, lo vedrete anche dai replay che vi mostrerò registrati durante una partita, col portiere che si butta in entrambi i lati. Ovviamente dovete essere stra-precisi, perché se avete il dito un po' ballerino, ovviamente il mirino diventa più grande e la palla rischia di andare sulla traversa. Anche se comunque anche spesso la situazione è favorevole, perché con la palla che scende così, spesso e volentieri capita la ribattuta. Quindi, nulla, io prima di lasciarvi alle clip vi saluto, fatemi sapere se conoscevate questa tecnica, fatemi sapere che ne pensate con un bel commento, lasciate un like se la spammerete contro i vostri avversari Itas in Weekend League. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo bene e mi fa strapiacere. Noi ci vediamo ogni giorno in live sulla piattaforma viola, lì ha tutte le info in infobox. E nulla ragazzi, vi saluto, vi lascio alle clip, fate bravi, ciao ciao. Ho capito, Matti. Sì, non so se c'è la culit, non ho visto. E adesso è sempre tutto molto più difficile.